Good morning a tutti voi e buona giornata. Un grande saluto da Laverna dove San Francesco ha ricevuto le stigmate. Oggi è la festa di San Lorenzo e siamo al capitolo 12 di Giovanni al versetto 24. In verità, in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Ancora una volta Gesù ci parla della vita di Dio, del mistero della vita di ogni essere umano e del mistero di Dio, guardando alla natura e al chicco, al principio della morte del chicco per la risurrezione, per portare frutto. Chi ama la propria vita la perde e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire mi segua e dove sono io sarà anche il mio servitore. Ecco, è uno, credo che sia uno dei passaggi più belli del Vangelo perché ci dice in modo chiaro, se vuoi guadagnare la vita, cioè se vuoi averla, se vuoi viverla in pienezza, non la devi trattenere, non la devi tenere per te, ma la devi donare. E San Lorenzo ha fatto proprio questo. San Lorenzo, non è che sappiamo tantissime cose del martirio di San Lorenzo, siamo nel periodo di persecuzioni a Roma. Adesso non mi ricordo più l'imperatore. Comunque, insomma, vengono uccisi tanti cristiani, viene ucciso il papa e Lorenzo si occupa della comunità. L'imperatore vuole prendere tutte le ricchezze, diciamo così, di una chiesa che per fortuna ancora non era ricca. E meno male. Lorenzo distribuisce ciò che hanno raccolto ai poveri e poi si presenta l'imperatore con i poveri, con gli ammalati e dice all'imperatore, eccola qui la nostra ricchezza, sono le persone più fragili, sono le nostre ricchezza. Ma viene ucciso, la tradizione dice appunto sulla graticola. E Lorenzo ha capito, come tanti tanti cristiani, che la vita non può essere trattenuta ma donata e la sua vita è diventata un dono, un dono che ricordiamo ancora noi oggi. In qualsiasi modo oggi non trattenerla la vita dalla via, perché poi si moltiplica, perché poi diventa una festa, diventa una gioia. E' quello che sempre sperimentiamo anche in queste esperienze, come in questi giorni. Oggi abbiamo fatto un bel cammino, qualche bella salitona, da Poppi, dove eravamo ieri, fino a qui a Laverna, leggermente sotto. Siamo ospiti delle Suore Francescane, della Sacra Famiglia, nella Casa della Roccia. Bellissimo posto. Domani domani non cammineremo, se non andando fino a Laverna, che è alle mie spalle lassù, ma ci vogliono venti minuti. E poi vivremo un po' di deserto qui, di ascolto della parola e anche delle confessioni. E' una giornata un po' di stacco dal cammino per riposarci e rigenerarsi dentro di noi. Ale, buona giornata a tutti voi.